Alessandrini, il vostro è un giudizio molto critico su un anno di lavoro della Giunta Masci. Parlate di fallimenti, di promesse mancate. Perché? Sì, esattamente. Abbiamo ripercorso i momenti salienti di questo 2021, cominciando dal tradimento dell'area di risulta. Cioè il centrodestra che aveva osteggiato fortemente quando era all'opposizione quello che non abbiamo mai esitato a definire lo scempio di privatizzazione e cementificazione dell'area di risulta. Quando erano all'opposizione e diventati maggioranza, solo pochi mesi dopo, invece hanno approvato proprio quella stessa idea progettuale, consegnando, quindi avendo l'idea, la volontà di consegnare nelle mani di un privato la nostra città per più di 20 anni. Il 15 di febbraio scadrà il bando pubblico e siamo certi che nessuno parteciperà al bando, poiché è evidente che non c'è convenienza economica nemmeno per gli operatori che a quanto ci risulta non sono interessati a partecipare. Quindi saremo contenti di festeggiare lo scampato pericolo rispetto alla triplicazione delle tariffe dei parcheggi e appunto a quest'idea di cementificazione e privatizzazione. Poi non possiamo dimenticare l'autovelox di Via Di Sotto, che ha trattato i cittadini di Pescara come un bancomat, per arrivare poi ai giorni nostri e quindi agli infiniti lavori di Via Marconi, in cui è come se fossimo una tela di Penelope in cui si costruisce e si distrugge il giorno dopo senza avere un'assoluta idea di mobilità e di trasporto, ma con la volontà semplicemente di spendere soldi pubblici che ci sono. Abbiamo ripercorso il pasticcio amministrativo del project di Collebreccia che dopo mesi persi con una valutazione dei project arrivati che hanno fatto vincere sostanzialmente chi non aveva nemmeno i requisiti poi per partecipare, ha lasciato semplicemente quella struttura all'abbandono avendo perso sei mesi. E siamo andati avanti anche con gli impegni che il Sindaco e il Consiglio Comunale tutto avevano preso nei confronti della città e poi nello scorso bilancio nei confronti della opposizione. E quindi tutta una serie di promesse mancate, a partire dall'istituzione dell'Ufficio Speciale per le Periferie, che si doveva occupare principalmente proprio di programmazione e ristrutturazione di questi ambiti così delicati e su cui concentrare attività, soldi e programmazione. Poi il piano spiaggia, anch'esso completamente assente e dimenticato. Il piano di rischio aeroportuale che stiamo aspettando dal 2019 e che ancora è assolutamente mancante. Quindi tutta una serie di promesse e di interventi che avrebbero dovuto vedere la Giunta e il Sindaco Masci impegnati e che invece ci portano, ci consegnano oggi alle soglie della nuova sessione di bilancio più battaglieri che mai. Quindi ci prepariamo come forse mai prima a pretendere ciò che fino adesso il Sindaco aveva promesso e evidentemente non è stato in grado di mantenere. Né lui né la sua Giunta.